Oggi due eccellenze abbinate perfettamente che sposano una zona di produzione tipica del nord Italia. Parliamo adesso del quartirolo lombardo e capiamo che tipo di prodotto è dal punto di vista del produttore e poi diamo anche qualche indicazione ai consumatori per sceglierlo e riconoscerlo. Per quanto attiene al prodotto quartirolo lombardo è un prodotto che si divide in due tipologie, il prodotto fresco e il prodotto stagionato. Il prodotto fresco è commerciabile già dopo 5 giorni dalla produzione, mentre il prodotto stagionato viene posto in commercio dopo 30 giorni dalla produzione seguendo un iter di stagionatura con varie salinature, tenuto in cella con dei gradi particolari. è un prodotto che anche se purtroppo devo dire poco conosciuto rappresenta una buona fetta del nostro mercato perché pensate che in un anno vengono prodotte 3.700 tonnellate e è una produzione che si fa tutto l'anno è un prodotto che viene utilizzato, viene prodotto con latte di vacca intero, naturalmente pastorizzato e per quanto riguarda la sua caratteristica principale è proprio la freschezza, il gusto del latte è un prodotto che va degustato ponendolo fuori dal frigorifero almeno due ore prima di poter andare a degustarlo e lì viene esaltato il gusto del latte anche se c'è da considerare quell'avena leggermente acidula ma che fa parte della caratteristica principale di questo prodotto storico perché diciamo che è da considerare dei prodotti storici. Se devo dare un consiglio dal punto di vista per poterlo consumare allora con riguardo al fresco diciamo che la consumazione migliore è quella di insalate, con i pomodori alla fine pasto con un filo d'olio e pepe, mentre lo stagionato può essere utilizzato nei sughi messo nel risotto, utilizzato come pasta ripiena, eventuali ravioli o altro ma comunque dal mio punto di vista con un goccio di vino rosso della Franciacorta e una fettina di quartirolo lombardo stagionato consumato così tal quale raschiando la crosta perché la crosta è parte integrante della pasta quindi perché essendo un prodotto a maturazione centripeta che matura dall'esterno verso l'interno la crosta è parte integrante della pasta consiglio mio grattate bene la crosta e mangiatelo così tal quale se volete andare oltre un filino d'olio questo è il mio consiglio dopo queste mi sembrano davvero ottime raccomandazioni però prima di degustarlo dove lo troviamo e come lo riconosciamo anche sugli banchi e sugli scaffali ecco la ringrazio per questa domanda perché è una domanda che mira proprio a dare un'indicazione in più al consumatore il prodotto quartirolo lombardo come tutti i DOP è diciamo la sua carta d'identità e il marchio di origine noi possiamo riconoscere sul marchio che è tipo una rosa con i quattro cerchi con le QL e QL e QL sulla faccia piana della crosta poi lo possiamo rilevare questo marchio abbinato al logo comunitario che è il logo rosso e giallo dei DOP sull'incarto esterno perché il formaggio viene esitato al consumo vestito con il proprio incarto nel quale viene specificato quartirolo lombardo DOP un'altra garanzia importante su questo incarto che viene riportato certificato dall'organismo di controllo utilizzato dal MIPAF un'ulteriore prova di autenticità di questo prodotto quindi cercate sempre il marchio sia sull'involucro esterno che sulla faccia piana viene trovato anche a confezioni di Ottavino, di Quartino quindi ci sono varie confezioni ma state sempre attenti al marchio di origine